Venerdì 15 febbraio si terrà alle 10.30 nell'auditorium del seminario Vescovile Pietro Mignosi di Caltanissetta la presentazione del libro Dialetto e Canzone, uno sguardo sulla Sicilia di oggi, di Roberto Sottile, docente di linguistica italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. In questo volume il professore Sottile spiega l'evoluzione dell'uso del dialetto che, sebbene abbia perso parlanti nativi, ha però guadagnato nuovi spazi comunicativi, tra cui quello della canzone d'autore. Nella nota si legge che il libro fa riferimento ai testi di artisti prevalentemente siciliani all'interno di un panorama ampio ed eterogeneo che abbraccia le esperienze di successo anche internazionale come Carmen Consoli, Franco Battiato, Agricantus e quelle più locali e meno note. All'incontro aperto al pubblico interverranno anche Marina Castiglione, docente di linguistica italiana all'Università di Palermo e Deborah Di Pietra, docente di italiano presso l'Istituto Virgilio di Mussomeli. L'evento sarà allietato dai Cantamuri, apprezzato trio nisseno specializzato in rivisitazioni di serenate siciliane e classici napoletani. Grazie a tutti.